Cari amici testimoni di Geova e pubblico in generale. Qui voi potete vedere la rivista Svegliatevi, in inglese, di data 8 de gennaio 1947 pagina 27 con un interessante articolo che la società indirizzi relativo alla scomunica o espulsione fatte per la Chiesa Cattolica. E si può leggere come segue. Stai tu anche scomunicato? Se tu sei uno dei 138 milioni di persone nel mondo che erano nati e cresciuto come protestanti, allora sei già scomunicato dalla Gerarchia Cattolica Romana. Ciò significa che sono guardati con disprezzo il più malevolo dal Vaticano, essendo maldetto e dannati con il diavolo e i suoi angeli. Si tratta di una legge canonico in cui la Gerarchia Cattolica Romana cercava di imporre basso il pretesto che è la legge di Dio. L'autorità per scomunicare, loro affermavano, la legge è stata basata sugli insegnamenti di Cristo e gli Apostoli, come si trovano nel seguente scritture. Matteo 18 e 15 al 19, 1 Corinti 5, 3 al 5, 16 e 22, Galati 1 versi 8 e 9. 1 Timoteo 1 e 20. Titus 3 e 10. Ma la espulsione della Gerarchia, come una punizione e il rimedio medicinale. E' enciclopedia cattolica. Non trova alcun sostegno in questi passi delle scritture. In realtà, è del tutto estraneo agli insegnamenti della Bibbia. Ebrei 10 versi 26 al 31. Successivamente, come le pretese della Gerarchia hanno aumentato, l'arma della espulsione è diventato lo strumento con la quale il clero ha raggiunto una combinazione del potere ecclesiastico e tirannia secolare che non trova paralleli nella storia. Principi potentati che si sono opposti al dettami del Vaticano sono stati rapidamente infilzati nelle ancore di espulsione e appese sulle loro una persecuzione nel fuoco. In questo articolo pubblicato per la società Torre di Guardia nel 1947, lo schiavo fedele e discreto aveva detto che la Chiesa Cattolica usava la espulsione o la scomunione per minacciare e manipolare a suoi membri, e imponessero sopra loro in basse a una falsa interpretazione dei testi biblici già elencati prima. Finalmente la società interpreta la espulsione fatta per la Chiesa Cattolica come una combinazione del potere ecclesiastico e una tirannia secolare che non trova paralleli nella storia e che qualsiasi persona che era opposta al dettami del Vaticano erano punito con il rifiuto e persino con la morte sul rogo. Ditemi amici testimoni di Geova e pubblico in generale. Non fa la stessa cosa la società Torre di Guardia dei Testimoni di Geova minacciando ai suoi membri di essere espulsi e respinti completamente se loro osano mettere in discussione le opinioni e gli insegnamenti dello schiavo fedele e discreto. Non è forse questa una forma di tirannia ostracista dalla società Torre di Guardia sottomessa a reprimere i suoi membri? Questo articolo pubblicato nel 1947 dovrebbe valere anche per la società Torre di Guardia dei Testimoni di Geova che fanno la stessa cosa espulsando a suoi membri che si oppongono mettendo in discussione le doctrine della Chiesa della Torre di Guardia. È molto facile per la società Torre di Guardia guardare la pagliuzza che è nell'occhio della Chiesa Cattolica e altre religioni, ma essa non considera la trave che è nel suo proprio occhio. A che preferisci essere tu? Forse no un uomo intelligente? O forse un asino testardo e fanatico? È tempo amici testimoni di Geova di aprire gli occhi, cessare di essere ciechi, e stare rebusnando come assini ed è una volta per tutte mettere tutto in valicia, pulire le scarpe sul tappeto prima di uscire della sala del regno, salire su un piattino supersonic da volare subito molto lontano, però lontanissimo dalla menzognera società Torre di Guardia e dire al vostro manipolatore corpo direttivo bugiardo. A riverderci corpo rebusnante, e dire a loro anche. Date la tua osso duro di rodere ad altri cani. Grazie. 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 Grazie.